In cui siamo disperati, hanno brisa la macchina, hanno portato a giustare per un guasto alla meccanica, e adesso penso a fare, andiamo a mezzare là, e ho sentito una gran rabbia presso il posto a pinca, quando improvvisamente andiamo in mente, a avere con un appuntamento che rimandiamo in cielo, e accetto un po' di vergogna, faremo di dio sì, e non vedi per un anno come i tuoi papi. Am togli da mira a sol, e avuto per il miramento, mi canvi un cielo da sol, per amperare la venta. Poi fatti sul ferino, da sigla dentro la piazza, hanno scappato ma guarda, a più però se sguassa, la zona che è in stress in che entra, l'apertata simpatica, e ciò è un mastraclaghegne, che è un salvitare in macchina, e faccio la guarda libera, senza essere sorridendo, e non c'è un angsticciop che entra al mento di accidente. O guarda qualca mi capita, anche un mio compagno, che ha incontrato la brisa, da circa di stagione, felice hai scelto il col, e hai detto quanti torni, ha fatto che c'era l'estero, tot i veri scopi, non c'è un bambino, ma mette qui non c'è mai mosh, al diaspirongli sempre, da piazza brocchinos, ma che è piuttosto come il, e c'è...